Bernardo Abbiamo mangiato, siamo partiti da Monte Rosso, siamo a Bernardo Abbiamo mangiato un panino, siamo a berzi il caffè Siamo stati a gennaio e non c'era nessuno Erba? Sì Questa è la bellezza dell'alluvione qui dentro Alla prossima Alla prossima Alla prossima Piazzetta Potrei prendermi un caffè, ci vediamo dopo Stiamo arrivando a Corniglia Aspetta, è che non ho posato il basto, ci siamo fatti Ci siamo qui? Ci siamo fatti No, 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 ma che da cavallo davamo la camera Ok Perfetto 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 Ecco qua Mi ha fatto un bel giro Arriviamo da La Ronhazza Ah, qui c'è la famosa chiesa, me la ricordo Bellissima, 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 bellissima Adesso mi fermo a fare una fotografia Ok, vediamo 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 qua La chiesa come Vediamo qua Vediamo Come è fatta Pittorotto qua a casa Vado dentro Vediamo Lo farò giuro in centro, va Lo farò giuro in centro, va C'è un po' di più. Grazie spero, però... Non male! Non male! Non male! Ci vediamo dopo! Siamo proprio sopra! Spettacolare! 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 Le vie con la cimiteri cazzivi! Vai! Spettacolare! Oh, il tramonto qua con l'albero questa qua! Adesso smetto che faccia la foto!